68 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo riguardano persone d'età compresa tra 3 e 93 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 9, di cui 2 nella provincia di Pescara, 2 in quella di Chieti e 5 in quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 486. Si tratta di un 97enne della provincia dell'Aquila. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 1.152 più 54 rispetto a ieri. 90 pazienti più 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 7 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri in 1.055 più 51 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza sono stati seguiti complessivamente 215.967 test, 2.332 nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Intanto il sindaco Antonio Luciani smentisce le indiscrezioni, secondo cui sarebbe scoppiato un focolaio a Francavilla al mare. Riguardo all'emergenza Covid, qui a Francavilla viviamo una situazione di relativa tranquillità. Abbiamo attualmente 13 casi attivi, tutti ovviamente seguiti con attenzione. Non c'è alcun focolaio, diversamente da come affermato da qualche emittente televisiva, perché i 13 casi sono tutti casi isolati, non collegabili tra loro. Dall'inizio dell'emergenza, della nuova ondata di emergenza, quindi praticamente da agosto, in tutto abbiamo avuto 26 contagi, dei quali 13 sono già guariti con il doppio tampone negativo e attualmente ci sono 13 che sono quasi tutti in via di guarigione. Nessun caso ad oggi all'interno delle scuole. Chiaramente la situazione evolve giorno per giorno, ma vi terremo informati attraverso anche i nostri canali social, come sempre.